L'Unione Europea ha determinato molti cambiamenti negli ordinamenti statali, sia nelle costituzioni formali come l'obbligo del pareggio di bilancio che in quelle materiali, come è accaduto con la lettera della BCE del 5 agosto 2011 che indicava al governo italiano le riforme necessarie per ristabilire la fiducia. Verso quale tipo di Stato e di forma di governo sta andando l'Europa? Il sistema verso il quale stiamo andando è molto diverso da quello che viene indicato comunemente una federazione europea. Purtroppo questo è un errore che ci portiamo dietro. È un sistema molto più complesso perché è un'integrazione dei popoli, è un'integrazione dei governi, è un'integrazione delle burocrazie e direi è un'integrazione anche delle lobby. È un'integrazione dei popoli in quanto c'è un Parlamento europeo e il Parlamento europeo ha notevoli poteri legislativi. Non legifera su tutto ma ha poteri piuttosto importanti. Poi c'è l'elemento intergovernativo, cioè i luoghi come il Consiglio dove si riuniscono i governi. Poi vi sono i moltissimi comitati dove si riuniscono le burocrazie. E infine c'è un fatto che secondo me è importantissimo. Quante sono le associazioni, quelle che chiamiamo le lobbies, gli istituti, che hanno creato delle sedi a Bruxelles. Questo è il segno del fatto che se Bruxelles non si avvicina alla società sono le società nazionali, le società civili nazionali di Europa che si avvicinano a Bruxelles. Io quindi sono convinto che noi stiamo costruendo qualcosa di interamente nuovo, molto originale, di grande complessità, ma che ci porterà alla fine a dei risultati estremamente importanti che sono quelli di dare voce a tutte le componenti della società, che non sono soltanto il popolo, sono anche le burocrazie, sono anche i governi, sono anche le associazioni, le corporazioni, perché le società sono fatte di corporazioni. Questo è un modello originale che ha, dei lontani raffronti soltanto con gli imperi del passato, quegli imperi come l'impero austro-ungarico, l'impero spagnolo, l'impero ottomano, nel quale esistevano delle strutture vaste che poi riassumevano dentro di sé altre strutture. L'impero austro-ungarico aveva un ma aveva dei re che erano a loro volta dei regnanti all'interno dell'impero. Noi dobbiamo abituarci a pensare all'Europa in questi termini che sono molto originali, che non ci portano lungo la strada sperimentata due secoli fa dagli Stati Uniti d'America, come alcuni sognatori italiani come Altero Spinelli hanno pensato, secondo me facendo un errore storico, di valutazione storica. Ma, professor Cassese, aver scelto una strada tutta nuova non rischia di generare confusione e di accentuare il deficit democratico delle istituzioni europee? Sono molto critico dell'espressione deficit democratico. È un'espressione che fu individuata, creata, per così dire, da uno studioso inglese e fu creata da questo studioso inglese in un momento nel quale il Parlamento europeo non era ad elezione diretta. Quindi fu creata in un contesto diverso che ora è radicalmente cambiato. Sono contrario anche per un secondo motivo, e cioè che oggi non solo abbiamo un Parlamento europeo eletto democraticamente da tutti i popoli che fanno parte dell'Unione europea. Ma abbiamo qualcosa di più. Se la democrazia è il controllo del popolo, ebbene, noi abbiamo oggi qualcosa che si aggiunge al controllo popolare, fatto dai Parlamenti nazionali e dal Parlamento europeo, ed è il controllo di ciascuno stato sugli altri stati. Oggi la Grecia, l'Italia, la Spagna debbono rispondere all'Unione europea, alla Germania, alla Francia, all'Inghilterra. E questo è un grosso passo avanti. È un grosso passo avanti perché oso dire che neppure del popolo ci si può fidare. Oso dire che i paesi che hanno fatto l'esperienza del nazismo e del fascismo sanno che se uno Stato è tenuto a rispondere ad un altro Stato, un governo ad un altro governo, c'è un sovrappiù di controllo, c'è un occhio ulteriore che si apre. Pensi ad esempio dell'Ungheria. L'Ungheria oggi sta vivendo una trasformazione nel senso non democratico. Ebbene, l'Unione europea, Barroso, chiama continuamente i governanti ungheresi per ricordargli che la Banca centrale deve essere autonoma. Grazie a tutti. Grazie a tutti.